Approvato il protocollo d'intesa tra Vicenza e Costa Bissara per la realizzazione di un collegamento ciclabile pedonale tra i due comuni che da via Fornaccio nel territorio bissarese si collegherà con strada di Maddalene e Risorgive della Roggio Serriola. Il costo complessivo per la realizzazione dell'opera è di 245 mila euro. L'intenzione è quella di sviluppare la mobilità dolce del territorio attraverso la creazione di percorsi che permettano la conoscenza, la scoperta e la valorizzazione dei luoghi anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Le fasi iniziali di progettazione verranno sviluppate dal comune di Costa Bissara entro il 31 di agosto. Successivamente il progetto definitivo sarà trasferito al comune di Vicenza che lo approverà entro il 30 di settembre. L'inizio dei lavori avverrà entro il 31 dicembre 2023.